Iniziamo già un pochettino a ragionare, il problema safe rimane, però almeno... Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, ma lo sapevo. Dobbiamo ammettere ragazzi che il torneo non è iniziato proprio nel migliore dei modi, eh? Fare una morte del genere non è mai carino, figuriamoci in un torneo così. Comunque ragazzi, il torneo dell'Apolo era in singolo, no build, e i punti si facevano tutti in endgame. Ed è stata la cosa più difficile, la skin la vincevano le prime 4500 persone. Tra l'altro il torneo è stato giocato in concomitanza con tanti altri tornei, quindi tutti pensavano fosse facilissimo vincerle. Ed io effettivamente mi son qualificato molto bene, lo vedrete alla fine del video. Ma fidatevi che era molto più difficile del previsto, perché non si trattava solo di non failare i game, ma di arrivare proprio nella top 5, top 4. Perché fino alla top 10 c'erano pochissimi punti a disposizione, ogni kill era un solo punto, e quindi capite bene che dovevate arrivare sempre in endgame, e in no build è ancora più complicato. Perché come sbagli un attimo la rotation o va in safe e vieni chiuso da due persone, muori. Quindi ovviamente un torneo all'insegna del camperaggio, ma camperavamo tutti, bolle scudo e buncatili a manetta, e il movement cromo che fa da patrone. Ovviamente prima di continuare con il video però vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzuola è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGY, Tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo. Grazie ve lo di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi. Lasciate un bel mi piace per altri video del genere dove vado a giocare dei tornei, questo in particolare l'ho fatto in live, sempre su Twitch, trovate il link in descrizione per venirmi a seguire su Twitch, ma tanti altri tornei li faccio off camera, quindi senza stare in live, però li registro. Fatemi sapere se ogni tanto qualche video sui tornei che gioco li volete vedere, anche perché questa volta siamo riusciti appunto a vincere la skin, ed è stato qualcosa di pazzesco. Io ne ricordavo tre, e sono arrivate tre. Sarà qualcosa che ho anticipato, che ne so. Eh! Ma questo? Cioè, Fra, perché questo mi deve venire a rompere le scatole? Ok. Cabbo! Sì, il video sarà tutto così, ragazzi. Super tagliato, vi ho lasciato soltanto le parti in cui killo, in cui succede qualcosa di particolare, le volte in cui muoio, e ve le ho lasciate tutte e dieci, però, eh. Ci sono tutte e dieci le partite racchiuse in così poco tempo. Fatemi sapere se vi piacciono anche gestiti in questo modo i video. Tipo, bello di qua. Lo sapevo che c'era qualcuno. Cioè, ma se tu stai camperando in un cespuglio, vuol dire che sei uno interessato a camperare. Mi spieghi perché mi devi sparare? Oddio, raga, ti prego, dimmi che sono in safe. No, non sono in safe. Quello. Raga, l'avete visto? Per una volta che sono in safe non ho dove camperare. Non so se tenermi il cromo... Mamma mia, regamo, quello lì, pusha quello? No, col cavolo, continua a pushare me. Bravo. Io stavo proprio per andare in quel... Eh, vabbè, ragazzi. Lo sapevo... Cioè, dovevo immaginarmelo che c'è stava qualcuno qua. Però... Speravo di no. Speravo di no. Era quello di prima. Dai. Dai. Ma che cosa sto vedendo? Cosa sta succedendo? Eh! No, sta di là! Parca miseria, pensavo mi stesse sparando dall'altra parte, regà. No, ti ho... Eh, vabbè, io ho finito le bolle scudo. Ve l'ho detto che non era una brutta idea portarmene quattro, eh. Quello sta lì, però. Cioè, ma zio Pera! Ma io non c'ho parole! Ti ho laserato! Ma che cosa riesci a spararmi? Con quella... Ah, ecco perché! Perché pure quest'altro mi ha iniziato a sparare. Maledetto! No, raga, mi porto quattro bolle scudo. Mi porto quattro bolle scudo. Non esiste. Cioè, raga, eh. Cioè, per favore. Però se non lo fanno... Non credo. Buona cavolata. Oh mio Dio. Com'è possibile non mi siano entrati... Non mi siano entrati alcuni colpi? Mi spiegate com'è possibile? Che non mi siano entrati alcuni colpi? Cioè, mi spiegate? Tra l'altro, questo è arrivato. Mi ha distrutto la cosa. Grazie, il Bunkadile. Sempre perfetto il Bunkadile. No, c'è un altro qui. Bravi, bravi. Sparate vedrà... No, sparate vedrà di voi. Please. Mi devi ricaricare! Raga, sapete perché non mi ricaricava? Perché avevo il furgoncino davanti. Godo. Non mi ricaricare! 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 Gado God Che win E' morto Vedete a che mi riferisco Non ho neanche più cure Si vabbè però non è possibile Eh mi sarebbe servito come il pane C'erano gli scildini E c'erano altri impulsi Il problema raga è che adesso sono letteralmente one shot E non ho cure No non esiste ragazzi Land game senza bolle scudo Senza bunkatile non esiste C'è proprio non esiste No build non esiste proprio Ma parola Porco 2 Ma dai ma stai scherzando Dai ma sca Ma dai Stai scherzando Ma poi mi segnava un passo Era quello Quell'altro col motoscafo se n'è andato Ma quanta gente c'è stava qui Poi quello mi è scappato ovviamente one shot Che se fossi stato io Sarei morto tipo instant Vabbè Sono in safe No raga qua me la serrano tipo tutti Qua me la serrano tipo tutti raga Qua mi la serrano tipo tutti No ragazzi No ragazzi No mi la serrano tipo tutti Allora qua se ci fosse stata La gugan Sarei morto instant Quanta Allora qua Godo No Stavo per uscire Va bene, va bene Sono portato a casa altri due kill Se ne sta andando? Se ne sta andando? In realtà Da una parte spererei che venga qui No, no, no Ok, vieni qui, vieni qui Mi fa, eh Perché lui è full Non ha Ha delle armi Non è messo come me Guarda come è riuscito a jumpar Let's go Oh mio Dio L'hanno ucciso O meglio Me l'hanno rubato Non so come ho fatto a non killarlo Non so come io abbia fatto a non killarlo Ragazzi Per ora no Ma non è morto No Ma c'è uno pure la gialla sotto No, vabbè ragazzi Non ho parole Stanno tutti qui Io lo sapevo Oh mio Dio Sto andando nel fuoco incrociato Morto Cioè ma Non ci posso credere Morto così no però Morto così no Vado a prendere il pacco Sì Let's go No non stavo facendo vedere il gioco No così non l'hai neanche ripresa Sì no Cioè la schermata ce l'ho Ma non pensate Cioè il gioco si è riavviato Tipo in mezzo secondo Comunque sono epiche C'è il balletto raro Regà Let's go Tanta roba È la prima volta che sblocco una skin in un torneo Dopo quella galaxy No galaxy Qual era quella samsung Ce n'era un'altra samsung Ah è sbloccato la Sì la galaxy L'altra però Come si chiama La seconda che è uscita Eh non mi ricordo Ovvero questa qui ragazzi Cari Questa sorta di galaxy Qui un po' particolare Però era mobile Era tutto un altro tipo di torneo E appunto invece questa volta in un torneo Abbastanza serio Siamo riusciti A vincere Ma attenzione perché adesso voglio vedere Dove sono arrivato Con precisione Eccomi qua ragazzi 1162esimo I primi 4005 si beccavano il 7 Quindi in realtà siamo arrivati anche Abbastanza bene Tanta tanta roba signori Non pensavo di riuscirci sinceramente Non pensavo Mamma mia ragazzi È stato davvero incredibile Alla fine da quello che ho capito Bastavano 105 106 punti Una cosa del genere E forse 107 Per sbloccare il set E quindi le skin Nei server europei ovviamente Io alla fine ho fatto un bel po' più di punti Di quelli che servivano Tant'è che sono entrato anche Come avete visto Nella top 1200 Più o meno Il torneo come vi ho già spiegato Era molto complicato Perché doveva arrivare Sempre in endgame E non è facile gestire l'endgame In no build Cioè se non avete Bunkatili Se non avete bolle scudo Se siete sfigati E vi sparano in più di una persona Avete buttato via una partita Perché è giusto per fare Un paio di calcoli Anche se siete persone Che killano molto Ma anche 5 kill Sono solo 5 punti Guardate un po' qui Finché non entrate in top 10 Non vi beccate 13 punti E dalla top 10 Alla top 5 Per esempio Ci sono 6 punti di differenza Che sembrano pochi Ma in realtà Sono tantissimi E quindi è stato Veramente incredibile Raga Sono davvero soddisfatto Fatemi sapere sotto nei commenti Se vorreste Altri video del genere Dei miei tornei Vi ricordo Il codice creatore GGYPSI Non ti tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti di fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciando un bel mi piace Le skin sono davvero Molto fighe Le andrò ad utilizzare meglio In un gameplay Nei prossimi video Anche perché raga Fare un'altra partita Con le skin Mi sembrava di fare un video Un pochino troppo lungo Insomma Tranquille che ovviamente Le andremo ad utilizzare Comunque le skin Dovrebbero uscire Tecnicamente domani Quindi al prossimo Cambio shop Giusto per informazione E niente ragazzi Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi